Ospite della puntata di Due minuti con Pino Nazio, che è qui presso la nostra dedazione di Roma Oggi per presentare la sua ultima opera letteraria dedicata ad Aldo Moro. Sì, sono passati 40 anni dal rapimento e dall'uccisione della scorta di Moro e del presidente della democrazia cristiana. Dopo 40 anni ancora non tutto è chiaro. Io nel scrivere questo libro, che ha un sottotitolo chiarissimo, La guerra fredda in Italia, ho ripercorso i 30 anni precedenti dal fine della guerra alla morte di Moro e c'è un filo rosso che collega tanti eventi che ci fanno capire che Moro è stato ucciso dalle Brigate Rosse ma è stato eliminato perché faceva comodo ad altri, a cominciare ovviamente da chi non voleva che il Partito Comunista entrasse nell'area di governo. Pino, volevo farti una domanda anche molto importante perché volevo ricordare quei momenti dell'uccisione di Moro ma anche un altro evento importante di quell'epoca, un filo rouge che praticamente collega l'uccisione di Moro alla scomparsa anche di Emanuele Orlandi. Beh, è un collegamento che si può trovare nell'Italia dei misteri. Io ho parlato dei 30 anni precedenti in cui ci sono state stragi, omicidi risolti, c'è stato tanto terrorismo, c'è stata la strategia della tensione, questa era l'Italia. In questo disegno anche la banda della Magliana, penso che ti riferisci a questo, e la mafia hanno avuto un ruolo. Ecco, la stessa mafia, banda della Magliana, che appunto ritroviamo nel caso Orlandi, utilizzato per ricattare il Vaticano e per riprendere e recuperare dei soldi che erano stati investiti nell'OIOR e nel Banco Ambrosiano. Ecco, da questo punto di vista c'è sicuramente un collegamento e dietro a tutto c'è l'Italia dei misteri risolti. Vedo che nel tuo testo c'è la prefazione di David Sassoli. David Sassoli ha scritto un pezzo importante, lui era un collega del Tg1, un bravo inviato, adesso è vicepresidente del Parlamento europeo, ha scritto un pezzo interessantissimo che si intitola Liberare Moro del caso Moro, perché questo libro parla anche del Moro politico, della sua biografia e quello che sostiene David Sassoli nel suo pezzo è proprio questo, cioè che di Moro, per il fatto che è stato eliminato in quel modo e quindi per il mistero sollevato intorno alla sua morte non si è più parlato del Moro vivo, della grande opera dal punto di vista politico e del filosofo della politica che è stato. Esatto, allora invitiamo i follower di Roma Oggi ad acquistare Aldo Moro, La guerra fredda in Italia con la prefazione di David Sassoli, opera letteraria di Pino Nazio, edito da Ponte Sisto. Grazie mille.